Dalle giovanili del Santa Monica alla serie A2, è la storia di Rocco Panciocco che con il suo Toscania è tornato al Palacivetta per disputare un amichevole precampionato contro la Roma Volley. Sono felicissimo di essere qua oggi perché giocare con la squadra dove giochi adesso, cioè in A2, e venire qua a Ostia dove sono cresciuto in pratica è una bella emozione, poi vedere così tanta gente mi fa molto piacere. Tu sei nazionale Under 21, sei un azzurro e quest'estate hai ricevuto appunto questa telefonata famosa che ti diceva Rocco dall'anno prossimo potresti giocare in Serie A2. Mi racconti com'è andata? Sì, l'allenatore Bruno Morganti l'ho avuto per tre anni a Club Italia e diciamo che non me l'aspettavo però quando mi è arrivata la sua chiamata ho accettato subito perché so che lui è uno molto bravo con i giovani e non mi sono fatto scappare di questa opportunità. Mi sei previstato un obiettivo? Spero di diventare un buon giocatore almeno di Superlega. Rocco insomma è un talento diciamo del vivaio del Lazio e soprattutto del Santa Monica e io lo conosco da anni sia nel Club Italia sia nelle nazionali giovanili pre-juniors. Quindi quest'anno l'ho voluto fortemente insomma con noi perché conosco insomma il suo valore e le sue qualità sia insomma morali sia soprattutto tecniche e fisiche. Quindi ritengo che per il Tuscania Volley sia sicuramente un elemento molto molto importante. Quest'anno Rocco è uscito dal Club Italia per età, è stato nazionale Under 20 quindi un prospetto che è nato e cresciuto qui. Il Tuscania ci ha chiesto di farlo giocare in a due e noi siamo stati molto molto orgogliosi di questo. L'allenatore è il suo ex allenatore del Club Italia quindi lo conosce bene e speriamo che possa essere l'inizio di una carriera luminosa. Oltre i cento spettatori hanno assistito all'amichevole che per la cronaca è stata vinta 3 a 1 dalla Tuscania. E allora ci sarà tanta curiosità per vedere all'opera in una categoria così importante un giovane del nostro territorio da Ostia per Canale 10 Valerio Nasetti.